Battuta la Fiorentina 2-1, adesso in finale al torneo di Vareggio. Ve ne rendete conto di aver fatto una pagina di storia del Verona? Cioè questo gruppo rimarrà sempre nella storia dell'Elas Verona? Forse adesso non ce ne rendiamo ancora conto, però tra un po' realizzeremo questo. È un sogno per tutti, però la testa alla prossima partita adesso. Che partita è stata quella di oggi? È stata dura, anche ovviamente per il campo che non ha aiutato molto, però c'era tanto da correre. Poi quando siamo finiti in dieci anche noi, non bisogna mai mollare. Sempre dura, poi con la Fiorentina non si può dire che è stata una partita facile. Anche perché hai detto tu che la Fiorentina è una bella squadra, almeno da fuori hai fatto un'impressione importante. Certo, certo, la Fiorentina si sa che squadra è, quindi per noi è un sogno, come abbiamo detto prima. Se il primo giorno l'Alto Pascio contro New York ti avessero detto vai a giocare lunedì 16 febbraio alla finale all'Arena Garibaldi di Pisa, ci avresti creduto? No, no, non potevamo crederci, però mai dire mai. Anche tu ci racconti un po' di te, visto che sei qui da neanche un anno, però hai già fatto breccia nel cuore, soprattutto i tuoi compagni, hai visto un grandissimo gruppo unito. Sì, sì, il gruppo è un unito, grande gruppo, grande squadra, siamo tutti legati, quindi è bello anche star dentro a questa squadra e quindi si vede anche nel campo questo, la voglia di vincere, tutto questo è il gruppo che ha portato alla vittoria, secondo me e secondo noi. Qui a Verona stai bene? Sì, sto benissimo, certo. E adesso c'è l'Inter, sei l'unica squadra da averla battuta, tra l'altro. Sì, siamo l'unica squadra da aver battuto l'Inter in campionato, quindi crediamoci, fino in fondo, se siamo qua per un motivo, mai mollare, ovviamente.